Sono Mirella Ravera dell'azienda agricola LavaG, è un'azienda agricola ad allevamento di vacche da latte della razza bruna e facciamo parte, il nostro prodotto fa parte dei prodotti Genova Gourmet. Noi lavoriamo principalmente latte ad uso alimentare e facciamo una piccola trasformazione dedicata quasi totalmente alla ristorazione e in questo caso al progetto, al bellissimo progetto di Genova Gourmet. Sostenibilità, noi lavoriamo in questo senso da sempre in maniera etico e sostenibile principalmente per i nostri animali cercando nella nostra totale libertà di osservare questi principi, per noi fondamentali principalmente il benessere dell'animale ma non da meno il cibo e in questo caso per quanto riguarda la sostenibilità noi produciamo, autoproduciamo il fieno nei nostri campi utilizzando il letame delle nostre animali e tramite un sistema di essiccazione fa in modo che il nostro letame sia immediatamente pronto per l'uso e quindi può entrare direttamente all'interno dei campi. Un'altra cosa molto importante nel nostro allevamento non si va su uso di antibiotici se non in casi molto particolari questo rende il nostro letame molto ambito soprattutto da chi fa certe determinate culture per chi fa cereali, per le vigne, addirittura anche per il basilico perché c'è un'attenzione assolutamente altissima anche per questo tipo di prodotto che è un sottoprodotto naturalmente della nostra azienda ma è importantissimo per quanto riguarda in maniera etica questo l'abbiamo sempre fatto pieno rispetto dei nostri animali grazie 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 grazie